Oggi l'Unione Europea non può esitare dinanzi al nuovo percorso da compiere. Troppo pressanti sono i problemi sociali ed economici. Se ne debbono far carico pienamente le istituzioni europee, rispondendo alle attese delle giovani generazioni e suscitando in essa rinnovata fiducia nella fecondità dell'esperienza e del disegno dell'Europa unita. Occorre, senza concederci alcuna indugenza, proseguire sulla via delle riforme e dell'effettivo sollecito avvio di indispensabili politiche comuni a sostegno della ripresa dell'economia e dell'occupazione. Sono convinto che l'Italia non mancherà in questo contesto di dare il proprio convinto e forte contributo alla prospettiva dell'unità politica europea, secondo l'originale ispirazione federalista che la caratterizza. Giorgio Napolitano. Grazie.